Ogni vita. Che cosa viene fuori da tutte le nostre vite? Commento. Viene fuori un mosaico evolutivo che a poco a poco ci istruisce sul disegno divino. Ogni vita è uno sprazzo di luce, una frase del discorso divino. Ogni vita è un'analisi che risale, grazie alle fatiche della condizione umana, alla sintesi dell'unificazione.